Fodemi ragazzi! Punto! Ho due impasti con opa in sequenza. Questo lo tiriamo fuori. Pasta, farina, sluttero, composto aromatico, tuorlo, sale, burro, un gocciolo. Per ora va tutto bene, lo scegliamo. Sviluppiamo bene l'utile, un bel velo, anche di una quindicina di centimetri, prima di andare avanti. Mettiamo la prima metà di burro. Colomba plastica, quindi è solo arraccio. Seconda colomba, pere cioccolato. La pasta è pronta, tiriamo su la pasta e ora questa qua punta per circa un'ora. Stefano va a spezzare la sua colomba. La pasta è pronta, tiriamo sull'ora, tiriamo sull'ora, tiriamo sull'ora, tiriamo sull'ora. La pasta è pronta, tiriamo sull'ora. Andiamo Baldi Quindi Fodemi ragazzi Punto